Buonasera a tutti e bentornati a block design sport 24 oggi come studio c'è un ospite veramente d'eccezione topolino allora la notizia è sconvolgente si è organizzato una squadra per il sesto torneo block design il progetto ovviamente è ambizioso voi state creando proprio una squadra per vincere il torneo queste sono le dichiarazioni del capitano proprio dei della vostra squadra il busard di mosci e giovanni gioia non pensare a quello che ha detto il capitano si ok però non dovete neanche nascondoli cioè tu paperino pippo giovanni gioia siete già un bel gruppo caspita basta lavorare sordo e restare uniti quindi gioia capitano tu in porta pippo c'entra avanti possiamo dire appunto quindi che sai dall'altezza della situazione vi ho mai deluso forse allora 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 sì ok però vincere il torneo block design sarebbe incredibile dai provate a immaginare forse oggi no e neanche domani stiamo parlando di un grande torneo certo l'anno prossimo tornerà in campo anche giovanni cadello per farti un nome davvero dice sul serio caspiterina avete sentito sì molti erano scegli anche sul fatto che sareste riusciti a organizzare una squadra però tu non hai non hai mai avuto dubbi al riguardo sapevo che ce l'avremmo fatta insieme passeremo la storia per il nostro grande eroismo per concludere avete già in mente qualcosa cosa farete per portare in bacheca la seconda coppa nella storia dei buzzer di mosci beh noi ci alleneremo noi quindi per oggi concludiamo qui quindi lasciamo libero il tocolino e vi lasciamo un'intervista esclusiva realizzata proprio da noi del block design con il presidente del palermo maurizio zappanini ciao presidente un saluto le famiglie a giocare a calcio al block design per mai rinnovo che ne faremo una ragione perché la stazione io la penso esattamente come lo vedo